Un bartender ad Ranita, Marco Liuzzo, parteciperà al World Class 2022, ovvero il concorso mondiale dei bartender. Dopo il quarto posto al Monin di Liverpool, Liuzzo dovrà affrontare le selezioni che si terranno a Milano e Roma e in caso di qualificazione volerà a Sydney in Australia. A gennaio si saprà il tema del concorso mondiale. Intanto per il bartender ad Ranita si tratta di una bella soddisfazione essere 300 bartender italiani che presenteranno il proprio progetto. Sono stato inserito fra i primi 100 bartender d'Italia per partecipare alla World Class, che è comunque una competizione mondiale che si terrà il prossimo anno in inverno. Sono molto orgoglioso di poter far parte da siciliano a questa World Class, anche perché quest'anno un amico mio di Modica è stato lui a vincere, sperando di continuare questo trend positivo. Ci sarà una selezione tra 100 bartender italiani, una fase preliminare, chiamiamola così, che si terrà a Milano e a Roma e poi il vincitore andrà a Sydney. Quanto ci speri? Molto difficile, è molto difficile, però come quando ho partecipato a Liverpool, al Monin, non ci speravo tantissimo, ma sono arrivato quarto. Qui spero di poter innanzitutto fare un prodotto buono e dopodiché di arrivare più in fondo possibile, quello sicuramente. Sarai seguito anche da una squadra che ti accompagnerà in questa avventura. Sì, io avrò una community che farà parte del mio staff di questo progetto che farà parte della World Class del 2022. Ci sarà Valeria Lopez, che è una blogger catanese e nonché una esperta di vini siciliani. Anna Spampinato, che è una scrittrice che farà parte dell'ufficio Stamba. Il fotografo sarà Salvatore Rissi di Adrano, che è un fotografo molto innovativo sul suo genere. Fabio Zaffiro invece sarà il designer del mio prodotto. Ti daranno poi loro un ingrediente importante sul quale tu andrai a costruire questo cocktail. Sì, la problematica della World Class è questa, che si svolgerà a febbraio, loro a gennaio mi daranno un prodotto. Quest'anno il prodotto più importante era il miele. Il prossimo anno loro a gennaio mi faranno sapere qual è il prodotto e io sul prodotto dovrei creare il drink. Ho devolato su tutto il mio staff da immagini, da un documentario sul mio prodotto. E' molto difficile, perché stiamo parlando di una competizione mondiale. Però già che uno ci partecipe, sono stato scelto fra i primi cento, è una grande opportunità per me. Allora in bocca al lupo. Grazie mille, grazie tanto. Grazie a tutti.